domanda attraverso un grande medium mi è stata apportata da un'entità una vertebra dal suo ultimo corpo fisico perché? risposta perché era ancora legata a quel corpo fisico e scomponendolo per apportarne i pezzi adesso si è affrancata dal suo monoideismo domanda attraverso un grande medium mi è stata apportata da un'entità una vertebra dal suo ultimo corpo fisico perché? risposta perché era ancora legata a quel corpo fisico e scomponendolo per apportarne i pezzi adesso si è affrancata dal suo monoideismo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.